Permetti un momento. Non ho soldi. Non mi servono soldi, ti devo dire una cosa. Se oggi mi vedi distratto, non ci fa caso perché, come si dice, non mi vado a fare un cazzo. Sfondi una porta aperta, piaci. E c'è quella tu quella nausetta che c'hanno tutti però. No, no, mi piace una. Ah, e chi è? Non te lo posso dire perché mi imbarazza. Senti, io non è che mi sento... Ci vogliamo dare una spintarella, che dici? In questo momento secondo me ci sta bene. No, no, perché poi mi viene l'ansia, la paura. Al limite una canna. No, no, io sono assolutamente contrario alle canna. Come hai detto che si chiama? Non te lo posso dire perché mi imbarazza. No, 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 no. No, 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 nolu. No, 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 no. Che foi questa? No, no, no. ale? Grazie a tutti.